Compreresti mai una casa piena di muffa come questa? Questa? O addirittura questa? Io sì! Ciao, sono Giuseppe Detto la Chiappamuffa e approfitto di questo fantastico commento per raccontarti come mi trasformerei in un investitore immobiliare andando a comprare tutte le case piene di muffa e più muffa c'è e meglio è. Quelle che hai visto a inizio video non sono altro che tre case che avevano gravi problemi di muffa che sono state analizzate e curate con il nostro trattamento e a distanza di qualche anno è andato tutto bene quindi possiamo dire che la casa non era da buttare giù, da vendere o peggio ancora, da svendere. Ma ora ti faccio una domanda tu che cosa avresti fatto se quella era la casa della tua vita e dovevi decidere se comprarlo o no? Avresti potuto chiedere uno sconto molto alto perché non sapendo come risolvere il problema nel dubbio dovevi avere un margine per poter fare degli interventi strutturali oppure avresti dovuto rinunciare al tuo sogno per un po' di muffa. Permettimi di darti qualche consiglio se ti trovi nella stessa situazione e stai valutando di rinunciare all'acquisto di una casa perché ha dei problemi evidentemente visibili di muffa non hai idea di come fare e quindi nel dubbio preferisci non metterti in un mare di guai. Cominciamo dall'acquirente quando vai a ispezionare la casa chiedi di poter spostare tutti i mobili soprattutto quelli che sono appoggiati su pareti rivolte verso l'esterno. Uno dei casi più comuni di occultamento di muffa è proprio quello dietro i mobili e non immagini quante persone ci sono rimaste male quando poi firmato tutto e diventati proprietari di casa hanno fatto l'amara scoperta che dietro il mobile c'era un sacco di muffa. Nulla di grave però è meglio scoprirlo prima. Consiglio numero due se vedi delle macchie di muffa poco tante che siano devi torchiare il venditore per cercare di raccogliere più informazioni possibili mettendo in conto che potrebbe raccontarti una verità un po' edulcorata ma non importa chiedigli da quanti anni ha questo problema che cosa ha fatto fino ad oggi e fai capire che te ne intendi e che per te questo problema è importante e che potrebbe portare a una pesante riduzione del prezzo se non si fa chiarezza. Consiglio numero tre se il problema è evidente non accontentarti di due chiacchiere e di una riduzione del prezzo ma ingaggia un tecnico imparziale ed indipendente per poter fare una diagnosi di questo immobile e scoprire eventuali vizi e difetti per poter fare un acquisto consapevole e sapere già che ci sarà una soluzione al problema e tutto questo ti porterà a risparmiare sul prezzo di acquisto ma non dovrai rinunciare all'acquisto della casa dei tuoi sogni. Consigli per il venditore una volta che ti sei reso conto che il tuo cliente non è una persona sprovveduta il consiglio numero uno che ti do è di non mettere in vendita una casa che abbia delle macchie di muffa visibili ma attenzione non ti sto dicendo di dare una mano del bianco più scarso che c'è per nascondere il problema perché il tuo cliente sarà in grado di accorgersene con una perizia tecnica che non gli costa nemmeno tanto ma farai ancora più brutta figura se presenterai una casa con dei vizi che vengono poi evidenziati dopo un'analisi tecnica. Consiglio numero due non mettere una casa in vendita se ha dei problemi strutturali non mettere una casa in vendita se ha macchie di muffa visibili e da tanti anni ci combatti e hai sempre usato acqua e candeggina e a un certo punto ti sei detto tanto ora la vendo gli diamo un po' di bianco e sistemiamo perché tutti questi problemi si manifestano entro un anno dalla vendita della casa e se trovi la persona precisa che va a guardare il codice civile e si rende conto che le hai venduta una casa con vizio occulto il costo della vendita di questa casa potrebbe diventare un incubo ed infine consiglio numero tre approfitta di un problema di muffa per valorizzare il tuo immobile e venderlo addirittura un prezzo più alto certo perché se tu hai una casa che è già molto bella e appetibile risolvi il problema di muffa ma lo risolvi per davvero cioè non devi semplicemente coprire con della vernice la macchia nera e spieghi al cliente che questa casa è stata riqualificata e migliorata hai in mano un elemento di qualità che aumenta il valore dell'immobile e impedisce al potenziale acquirente di poter intaccare il valore della casa chiedendoti 10-20 mila euro di sconto nel dubbio visto che gli stai presentando una casa degradata in conclusione che tu sia venditore o acquirente ricorda che la muffa potrebbe essere un fastidio nella trattativa ma di sicuro non sarà l'elemento che farà saltare l'affare certamente se sei acquirente e ti viene proposto una casa degradata con problemi di muffa e per il resto è tutto ok approfittane tira il prezzo e porta a casa quell'abitazione solo dopo però avere le certezze su come risolverai quei problemi poi sarà affar tuo come lo farai intanto è giusto che tu possa recuperare qualche migliaia di euro dal costo perché non è accettabile che si metta in vendita in una casa in uno stato di degrado simile e che dire di te amico venditore hai due possibilità svendere casa tua soltanto perché non hai voglia o non hai le conoscenze per poter risolvere il problema e valorizzare il tuo immobile oppure prendere la palla al balzo risolvere il problema di muffa e aggiungere valore alla casa come hanno fatto alcuni dei nostri clienti e vado a pubblicarti degli screen clamorosi di clienti che sono riusciti a vendere la loro casa a un valore di mercato più alto semplicemente perché i muri erano perfetti e chi ha comprato casa è stato ancora più felice di spendere qualche cosa in più per avere una casa sana o lo fai tu o lo farà il nuovo proprietario di casa a tue spese ciao da Giuseppe e basta muffa